E' da poco terminata l'analisi dei risultati raccolti durante il Proof of Concept che Edap, in collaborazione con il partner OBE, ha sviluppato per conto di Enel Green Power sugli impianti Wind in Oklahoma. E' stato un percorso interessante che ha consentito di valutare l'utilizzo degli smart glasses a supporto degli operatori sul campo che svolgono delle operazioni di manutenzione sulle paleoliche. Valerio Ferrero, che è qua com'è, responsabile del progetto, ha seguito personalmente lo sviluppo e la cosa migliore è farvi vedere a questo punto filmato che Enel Green Power ha montato per documentarlo. La tecnologia smart glasses è qualcosa che stiamo cercando di usare che permette il tecnico di essere hands-free, che è importante per la sicurezza del tecnico. La versione simplificata di smart glasses è di shareare fondamentali tecniche in real-time, high-definition, per assicurare che i nostri tecniche sono in conto con le persone che sono in attenzione con le persone dentro del turban. E' stato fatto il lavoro. E' stato fatto il lavoro, che sono in attenzione in Roma, o in Madrid, e qualcuno in un turban, qui in Chisholmview, Oclahoma, e continuare a comunicare con quello che è il perfetto esperto per l'attività. Io sono responsabile per il progetto di smart glasses e ho iniziato in l'initiale fase di design, trafando le tecniche specie, trafando le scenarii, e ora sono qui per aiutare i nostri amici e amici per aiutare i nostri amici e per aiutare questa buona demo come true. Durante la demo, abbiamo preso le glasses uptower con noi per fare un'attività di fare un'attività di un'attività. La persona con le glasses va ad andare a la hub e do some quality checks while the person in the nacelle could see it on the phone and see what was going on in the hub, as well as communicate back to the office. Having that capability live stream with the technicians having their hands free, it's going to be beneficial to reduce multiple climbs and be able to have instant information to the techs in the field from the engineering support team. We actually saw the live stream video, which kind of created a visual graphic of the tower and everything, so it was pretty amazing. And when you get that integration, it's like having 15 technicians in the one. Smart glasses are the innovation. We can, with minimum cost, provide the maximum support in order to obtain the maximum availability and production in the wind farms. I heard both the technician that was up with me and also the control room. And when you hear that, you kind of get guidance to where you want to go. I think we have two big opportunities. One is the opportunity to spread that knowledge from wherever we are in the globe to the technical expert on the sites. Another opportunity is when you have a site leader who is maybe more technically savvy than the person that's working in the turbine, and they're able to share that information on site, and they're able to collaborate and get the turbine running quicker. We want to try new things. We want to make sure that we are the cutting edge of technology, that we're using it, and that we're using it with a purpose. We're an innovative company. We want to keep improving. We're going to keep innovating, making everything better and safer for our people. We'll keep improving. We'll be right back. Thank you. Thank you. I'm your follower.